Siamo con Piera D'Avella, responsabile amministrativo CE per il distretto 70. Si sta effettuando una grande operazione presso l'ospedale civile di Agropoli riguardo i profughi ucraini che stanno giungendo nella città di Agropoli e non solo. Ovviamente ogni cittadino ucraino passa dal suo ufficio, Piera, per essere censito, per capire le sue generalità e come procedere per poter stare nella città di Agropoli e come richiedere eventuali cure anche mediche. Ci può spiegare nel dettaglio l'iniziativa? Praticamente abbiamo pensato, chiaramente il direttore sanitario e quant'altro, abbiamo pensato di accogliere, di fare un'accoglienza molto molto precisa perché non ci dimentichiamo che abbiamo ancora un'emergenza Covid, per cui cosa facciamo? Appena arrivano i profughi devono per forza passare da quest'ufficio in modo tale che verrà subitamente dato a loro la nostra assistenza sanitaria. Quindi entrano nel nostro servizio sanitario nazionale con un STP, cioè praticamente un'assistenza sanitaria temporanea e praticamente dopo di ciò li mandiamo nell'immediato, li accompagniamo, perché non li mandiamo ma li accompagniamo, a fare i tamponi. Tutti quanti, chiunque viene qui nel nostro paese, passano per l'USCA, per cui almeno siamo tranquilli che non ci siano malattie. Dopo di ciò vengono censiti per quanto riguarda i vaccini, quindi vaccini Covid a tutti. Viene proposta a tutti di fare vaccini Covid e quindi li tendiamo almeno di convincerli a vaccinarsi. Ci riusciamo abbastanza, non completamente, ma ci riusciamo abbastanza. Ricordiamo anche che in Ucraina non c'è stata una vera e propria campagna vaccinale come da noi in Italia, quindi molti di questi profughi purtroppo arrivano qui da voi sprovvisti di vaccino. Magari hanno avuto il Covid ma sono passati i tempi per quanto riguarda il Green Pass. È vero, è vero. Allora, abbiamo pensato di fare un primo passaggio, quindi praticamente noi qui abbiamo due medici, qui in sede sempre, che visiteranno una volta ottenuto l'STP, quindi è entrato nel nostro servizio sanitario nazionale. Noi abbiamo due medici sempre disponibili affinché possano controllare lo stato di salute e addirittura con prescrizioni mediche, quindi noi abbiamo questa corsia preferenziale. Se hanno bisogno di medicine vengono prescritte qua. e addirittura abbiamo un pediatra per cui i bambini, perché sono tanti bambini che stanno arrivando, abbiamo un pediatra disponibile a visitarli, per cui per uno stato di buona salute nostra, ci tuteliamo insomma per il Covid, non dobbiamo dimenticare che il Covid c'è ancora, e quindi per uno stato di salute della nostra popolazione e la loro, che ospiteremo sicuramente nel migliore dei modi, praticamente tendiamo a largo spettro, a largo giro, di capire in che stato di salute stanno, come ci arrivano. Abbiamo avuto già in due giorni persone con patologie, abbiamo già affrontato queste patologie con il cardiologo e quant'altro, e quindi praticamente tentiamo di dare quanto più è possibile. Devo dire che c'è una buona sinergia con i comuni, con il comune di Agropoli. So che il sindaco già si è mosso e quindi diciamo a livello sanitario noi diamo veramente un'assistenza massima, una protezione massima, e devo dire che pure il sindaco di Agropoli si è mosso in questo senso, cioè ha voluto anche capire noi come ci muovevamo, per un'assistenza socio-sanitaria chiaramente che purtroppo è riferita al comune. Noi abbiamo dei limiti, dal punto di vista sanitario possiamo dare qualsiasi cosa, dal punto di vista socio-sanitario abbiamo qualche limite. Devo dire che abbiamo pure una buona comunicazione. Devo dire che la sinergia tra vari uffici funziona davvero alla grande. Sarà stata che c'è stato un insegnamento di un'emergenza un poco più grande che sarà stata quella del Covid, insomma. Ma non meno questa emergenza adesso di accoglienza dei profughi. Devo dire che c'è una buona sinergia con tutti gli uffici, compreso l'ufficio OPC, che stamattina mi ha comunicato che arriverà un pullman. Hanno fatto già un censimento, un primo censimento, quindi prefettura, questura, pullman. Devo dire che c'è una buona assistenza, diciamo così. Quindi è vero sì che stiamo accogliendo i profughi, è vero sì che hanno delle patologie, però è pur vero che voglio tranquillizzare la popolazione di Agropoli, voglio tranquillizzare la popolazione afferente al distretto 70. Saranno censiti tutti, saranno subito presi in carico dall'USCA, quindi voglio un attimino tranquillizzare. È vero sì che avremo degli ospiti, ma avremo degli ospiti sani, sotto osservazione, diciamo così. Vorrei tranquillizzare la popolazione, perché tanti mi dicono, ma adesso ricominciamo con i contagi. No, non ricominciamo con i contagi, perché appena arrivati qua, in 48 ore, sono già censiti praticamente tutti. Grazie. 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 Grazie.